Ma buonasera, buonasera a tutti, io sono Fiona Ciacalli e oggi ci troviamo qui con una nuova puntata di Spazio all'ospite, il talk show spaziale di Tech Princess. Io sono Fiona Ciacalli, sì l'ho già detto, io sono Fiona Ciacalli e questa sera, ore 21, nuova puntata, dicevamo oggi parleremo di videogiochi, ma con un personaggio che ci racconterà un altro punto di vista in merito ai videogiochi, non i videogiochi di massa, ma dei videogiochi un po' più di nicchia che piacciono, molto pubblico particolare, io non sono ancora appassionato di questo tipo di giochi, ma spero che entro fine di questa serata di iniziare a giocare ad alcuni di questi. Sono in compagnia di Marco Minoli, che è la nostra regia, che è la Gerica, ci favorirà in questo preciso istante, buonasera Marco, in cravatta e giacca, che top! Raga, è il mio personaggio, io sono quello dei videogiochi con la cravatta, non c'è scampo questa cosa. Non lavori in banca, mi confermi, sì. No, no, confermo, confermo che non sono lo sportello. Non sono lo sportello e benissimo. Ciao Marco Minoli, Marketing Director di Slytherin Games, società di sviluppo, produzione e distribuzione di videogiochi War Games, si definiscono così, corretto? War Games, esatto, sì. War Games. Raccontaci qualcosa di più sul tuo ruolo, chi sei, cosa fai, dove vai e chi ti ci ha mandato. Chi ci ha mandato è interessante. Allora, in realtà, guarda, io sono in questa azienda da tantissimi anni, perché ormai è dal 2007, quindi faccio, lo dico spesso, che è il rapporto più lungo che ho avuto nella mia vita, quindi con la Slytherin, ed è interessante perché è un'azienda che è cresciuta, è passata ad avere 4-5 persone nel 2007, adesso siamo più di 100, siamo iperincrescita ed è tutto fighissimo. Ho iniziato nei videogiochi molto tempo prima, perché il mio primo prodotto è stato nel 98 e ho sempre fatto marketing, quindi nel 98 stiamo parlando di Tomb Raider 2, cioè proprio le robe degli inizi e degli albori. Però ecco, sì, Slytherin è un'azienda che fa videogiochi di strategia, principalmente, e abbiamo due brand, di fatto. Uno è che è Matrix Games, che sono proprio i giochi, quelli proprio per i più nerd del mondo, quindi giochi a esagoni, 2D, proprio la cosa più nerdosa che puoi immaginare. E invece Slytherin, che fa dei giochi di strategia un pochino più di ampio respiro, ecco, sempre però votati ad una nicchia, la nicchia di appassionati, e stiamo, diciamo, cercando di mantenere un po' i piedi in queste due scarpe, che non è banale, perché sono due nicchie molto diverse, due pubblici molto diversi, e quindi questa è un po' la sfida che abbiamo tutti i giorni. Beh, niente male, anche perché è una sfida doppia, perché uno dice, vado su un mercato di videogiochi che piacciono a tutti, no? Tanto vai lì col badile, no? Li raccogli i videogiocatori, te li porti a casa. Non che lì sia facile, però almeno hai qualche chance in più di essere, di piacere a più persone. Invece voi avete, cioè avete quel target, che è un target esigentissimo, giusto? Sì, sì, sì. Come nasce un videogioco di questo genere? Beh, in realtà, guarda, io credo che, vabbè, io ovviamente lavorandoci da tanto tempo lo trovo quasi più facile, nel senso che noi da 15 anni, da 20 anni, ormai cresciamo il nostro pubblico, e quindi sappiamo cosa vuole, sappiamo come si evolve, stiamo cercando di crescere i nuovi giocatori di strategia, che non è banale, no? Perché i ragazzi oggi vogliono cose iperveloci, esperienze di gioco molto più rapide, eccetera. Però comunque abbiamo un'idea molto chiara di quello che serve, di quello che potrebbe essere il prossimo step verso, per questo tipo di giocatori. Invece chi fa giochi più di massa, è vero che pesca in un pubblico molto più ampio, però è molto più difficile capire le tendenze, capire quali sono i prossimi super successi, eccetera. Mi hai rovesciato totalmente la visione, no? Perché pesca in un pubblico non hai detto che tu accatti qualcosa. Tu magari conosci più approfonditamente il tuo pubblico, sai già cosa vogliono, magari. Credo di sì, cioè, allora, tu considera, ecco, per esempio, ti faccio questo esempio, qualche anno fa è stato l'anniversario della battaglia di Waterloo, no? E nel nostro mondo dei giochi di strategia sono usciti cinque giochi sul Napoleone, ok? Quindi tu più o meno hai un'idea di, ok, quell'anno lì potrebbe funzionare quella cosa specifica. E poi ci sono anche le licenze che aiutano. Per esempio, noi abbiamo diversi prodotti con marche Warhammer, che è una roba iperpopolare, no? Però è sempre per impallinati di giochi di quel tipo, no? E quindi, ecco, in un certo senso l'idea di sviluppare un gioco viene un po' da un sistema provato, quindi il gioco tattico piuttosto che il gioco strategico, piuttosto che il quattro per, eccetera, eccetera, applicato ad un setting che in quel momento pare essere, diciamo, quello più di tendenza, quello più interessante. Questo è un po' l'idea di base. Senti, parliamo di, hai detto giochi su licenza, magari non tutti sanno che cos'è un gioco su licenza. Voi andate, come studio, andate dal brand Warhammer e dite ciao, vorrei usare il brand Warhammer per il mio gioco. Da lì come funziona il tutto? Quanto siete legati al brand? Quanto vi obbligano a fare delle cose? Quanta libertà c'è di fare nel gioco? Spieghiamo questa cosa perché secondo me non tutti la conoscono. Allora, guarda, dipende tantissimo dai licenziatari, nel senso che, per esempio, noi abbiamo un gioco in uscita l'anno prossimo che è di Starship Troopers, quindi stiamo lavorando con Sony Pictures su questo prodotto e il rapporto è molto, per esempio, libero, nel senso che Starship Troopers è un film, diciamo, il film originale è proprio, ormai, credo sia vintage, però diciamo che poi ci sono state tutta una serie di iterazioni, 3D, eccetera, eccetera, animate e così via, però ecco, in questo Sony Pictures ci lasciano tantissima libertà di azione su inventarci cose nuove, la storia, eccetera, eccetera. Games Workshop, che sono quelli invece che hanno la property di Warhammer, sono iper stringenti, cioè con loro non puoi sgarrare da quello che è, diciamo, una impostazione grafica di mood e tutta una serie di altri elementi che deve essere proprio iper rispettata. In tutti, in tutte queste, diciamo, queste aziende c'è un ufficio preposto che gestisce la licenza e è divertente perché il mondo dei videogiochi sul mondo licenze, sul settore licenze, prima era visto un po' come il merchandise, sto parlando di qualche anno fa, 10 anni fa, ormai 15 anni fa, no? Poi è cambiato perché ormai il videogioco è quasi come se fosse complementare alla comunicazione e quindi non è più un merchandise, deve essere qualcosa che si attacca molto fortemente allo sviluppo del property fuori dal mondo videogioco e quindi si lavora tanto insieme, di fatto, sia sulla comunicazione che sui materiali, sul brand, sulla parte di marketing, sul contenuto. È cambiata tanto questa parte qua. Beh, guarda solo già Spider-Man per PlayStation 4, hanno creato una side story, completamente una cosa parallela addirittura e lì è diventato una roba gigantesca. Perché è funzionale, cioè io vedo tanto anche come le aziende del cinema ultimamente stanno cercando di mettere il loro prodotto non più su licenza ma come se fossero dei product placement, no? Quindi, ah, che ne so, io, Terminator dentro a Mortal Kombat, capito? Cioè, cose molto più di branding che non sono più è ti vendo la licenza, eccetera, ma sono proprio di lavorare insieme per fare un prodotto che non è sbagliato perché il mondo dell'intrattenimento, insomma, alla fine si sta evolvendo in questa direzione. Anche perché c'è talmente tanta offerta che non puoi buttare fuori robe fatte a caso, giusto tanto per fare merchandising, perché diventa un flop subito. Sì, 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 guarda, io ricordo qualche anno fa, ormai una decina di anni fa, quando Warner aveva cominciato a mettere dei paletti sulla qualità del prodotto che doveva uscire rispetto alla property, no? Perché poi quando c'erano i tie-in di videogiochi sui film, tanti anni fa erano proprio delle, alcune volte erano proprio delle show fake inguardabili, proprio perché era un merchandising, no? Capito? Cioè, doveva esserci sullo scaffale l'immagine del prodotto. Poi ci si è evoluti tanto, eh, in questo senso, quindi secondo me è la direzione molto interessante. Questa cosa è molto bella perché, ripeto, secondo me non c'è molta percezione esternamente rispetto all'licensing. Intanto arrivano le prime domande, Daniele dice, come è stata la partnership per la realizzazione di Battlestar Galactica Deadlock, che adoro follemente? Realizzare un videogioco su licenza comporta degli ostacoli in più o il contrario? Allora, Battlestar Galactica, tra l'altro, è appena finito, perché abbiamo fatto uscire la stagione, la fine della stagione 2, da poco, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Universal, NBC Universal, in questo caso, ci ha fatto, ci ha aperto un mondo. E credo che sia un po' figlio anche di quello che stavo dicendo prima di Starship Troopers. Cioè, quando una licenza ha un po' esaurito il suo corso, il suo percorso a livello cinematografico, tv, eccetera, o comunque non ha particolare visibilità, ci è permesso di lavorare tanto di più su quello che è il nostro contenuto, e con NBC abbiamo fatto un lavoro incredibile. Cioè, noi ci siamo inventati le nostre navi, sono diventate parte della lore ufficiale, quindi sono state approvate da NBC come se fossero proprio parte del mondo di Battlestar Galactica. personaggi nuovi, abbiamo avuto la possibilità di creare di fatto due stagioni, quindi credo una dozzina di DLC, che poi si attaccano all'inizio della serie tv, quindi proprio, capito, c'è un modo di lavorare che credo non sarà più ripetibile, perché è proprio stata un'esperienza quasi pari a creare proprio un vero e proprio film a livello di contenuto. Che figata. Invece per quanto riguarda lo sviluppo di un videogioco, partiamo da una roba più generale, no? Molti si... Aspetta un attimo, mi hanno già rubato la scena, è arrivata una domanda, aspetta, te la leggo. Roberto chiede, buonasera, io ho una domanda, sui videogiochi più conosciuti, vi è un algoritmo ricorrente nella loro programmazione, creazione e sviluppo? Grazie. Guarda, credo che... credo di intuire il senso della domanda e la mia... credo che nel mondo mobile, in questo momento ci sia tanto questa ricerca della ricetta perfetta. Mentre nel mondo console PC molto meno, c'è molto più spazio alla creatività, molte aziende che fanno mobile, quindi tutti questi giochi free to play che cercano di ingaggiare il giocatore in un continuo, no? Spendere tempo e soldi all'interno delle app, perché è la loro necessità, il loro modello di business, stanno veramente facendo il massimo per creare l'esperienza perfetta in modo da far restare il giocatore dentro, fargli spendere di più soldi, eccetera, eccetera. Quindi secondo me c'è un po' la tendenza in questa parte qua. Tanto è vero che la figura professionale della business intelligence all'interno del settore dei videogiochi sta crescendo in modo esponenziale, specialmente nel mobile. Quindi con le persone che si occupano di guardare i dati e di capire come si comporta il giocatore per portarlo a fare certe scelte. Credo che sia un po' la ricetta del futuro su alcuni tipi di prodotti e ha molto senso perché se tu pensi che questi prodotti, a svilupparli costa relativamente poco, ma poi a farci il marketing costa delle cifre spropositate, è tutto user based, tutto consumer based, quindi tutto fatto per attrarre i consumatori, in quel senso. Senti, invece il videogioco mobile, giochi strategici inizialmente erano più da PC rispetto a che console, correggimi se sbaglio, oggi si tende ad andare verso lo smartphone. Quali sono state le conseguenze? Sì, guarda, è interessante perché in realtà i giochi mobile hanno riaperto un settore che si era quasi andato a perdere, nel senso che il gioco di strategia a turni, la base del gioco di strategia a turni, era un po' morta, cosa che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, cioè il nostro concetto, il gioco di strategia a turni, è proprio la base del nostro lavoro. Il mondo mobile ha riaperto completamente questo mondo, perché il real time, il gioco di strategia in real time, su mobile è molto più complesso da gestire. E quindi si è ritornati ad avere giochi anche piuttosto semplici, ma meccaniche di gioco pulite, fatte veramente a regola d'arte, a turni, per cui io gioco il mio, poi c'è il mio avversario che gioca il suo e ci rimandiamo indietro le partite in questo senso. E questa cosa poi, gioco forza, è arrivata poi, tornata su PC e su console e così via. Addirittura adesso su console stanno cominciando ad avere successo molti giochi di strategia, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Come ti spieghi questa cosa? Credo che il giocatore non abbia più la necessità di avere un tipo di esperienza univoca, no? Credo che, specialmente con l'avvento da svariati anni di giochi indie, il giocatore va più alla ricerca di cose particolari, di cose diverse, di cose che lo interessano, di cose che, insomma, cose sempre un po' diverse. Quindi in questo ci sta anche il gioco di strategia, no? Magari non complessissimo, però perché no? Cioè, tu pensa a Mario Rabbids, no? Quando mai avresti immaginato... È un gioco XCOM, alla fine, no? In tutto e per tutto. Quindi, certo, vesti XCOM con Mario e Rabbids e hai una ricetta amica da ridere. Molto, molto bella, tra l'altro. Intanto Walter dice, quante libertà può permettersi una software house per ritardare l'uscita di un videogioco? Lui prende come esempio della Stovas 2, prima di incorrere in conseguenze rilevanti a livello sia economico che di blasone? Grazie. Uh, che domandona. Guarda, in realtà ogni studio ha il suo conto economico, quindi faccio fatica a rispondere alla domanda specifica. Diciamo che ritardare l'uscita di un prodotto specialmente per studi grossi come chi fa la Stovas, chi fa i giochi di questo di questa rilevanza è, voglio dire, è un burn rate mensile mica da ridere. E quindi è tutto un bilanciamento tra faccio giro un gioco di iper qualità che piace a tutti però devo anche cominciare a generare il mio il mio il mio income perché se altrimenti non vado da nessuna parte. Per aziende come la nostra per esempio noi noi posticipiamo fino alla morte piuttosto perché il prodotto deve essere iperperfetto altrimenti i nostri giocatori i nostri appassionati ci ammazzano cioè non accettano ma è già successo? Lo stai dicendo con un occhio e lo si incazzano perché già lo so No ma guarda in realtà noi abbiamo attraversato la fase dell'odio nei forum prima di tutti perché il nostro giocatore che è quello tipo esperto impallinato eccetera eccetera sono stati i primi a educarci a questo mondo di relazioni dirette con consumatore incazzature sul prezzo incazzature sulla ah non c'è la demo queste robe qua no? quindi adesso siamo iperallenati però abbiamo fatto i nostri i nostri bei salti mortali noi qualche qualche anno fa con forgiati nel fuoco eh sì 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 poi adesso c'è tanta tossicità no? con il review bombing queste cose orribili che succedono e molto spesso non viene considerato perché dietro questi giochi ci sono aziende che sudano e persone che sudano veramente le sette camicie per far uscire i prodotti quindi poco tatto a volte non è non è ben accetto però questo è il mondo in cui viviamo e l'unica risposta che a uno viene ogni tanto in mente è tipo allora sei meglio te perché sembra che le persone dall'altra parte facciano di tutto per come se sapessero già loro come viene sviluppato come viene cioè è un ecosistema talmente complesso un videogioco che non è così banale sì ci sono tante feste tanti reparti tanti settori tante cose da mettere al puzzle da mettere al posto giusto che diventa diventa molto difficile sì sì noi avevamo un gioco qualche anno fa il nostro primo gioco Warhammer che è stato massacrato perché si basava su un gioco il nostro gioco di successo che era Panzer Corps che è un gioco strategico sulla seconda guerra mondiale con lo stesso sistema di gioco abbiamo fatto Warhammer 40.000 Armageddon e quando abbiamo fatto il primo lancio il pubblico per quale ragione non si capiva benissimo ci hanno massacrato è un reskin potevate farlo pagare 9,90 ci abbiamo messo per anni a svilupparlo capito 400 unità in grafica 3D della roba è veramente capito però è un reskin 9,90 e quindi inizialmente abbiamo avuto un'accoglienza veramente difficile e non è facile non te l'aspetti a volte non ti aspetti proprio su cosa andranno a lamentarsi proprio impossibile hai parlato di review bombing magari non tutti sono avvezzissimi che cos'è il review bombing spieghiamolo in modo facile il review bombing è quando quando tu hai un gioco una punizione da parte del pubblico è una punizione è una punizione è venuto per esempio di recente con un gioco si chiama Control un'altra follia Control è un gioco bellissimo per console per pc è veramente molto bello e a un certo punto la software house il publisher ha deciso di fare una scelta commerciale tipo l'upgrade per playstation costa dei soldi e la gente non l'ha presa bene l'upgrade per il playstation 5 non l'ha presa bene e hanno iniziato a lasciare review negative sulla pagina prodotto per dire per testimoniare la loro ira nei confronti di questa decisione commerciale è questo review bombing quando tu te la prendi con la qualità del prodotto ma su cose che non hanno niente a che fare con la qualità del prodotto ma per decisioni non hai messo la lingua cinese voto 2 soprattutto perché Metacritic per chi non lo sapesse fa una media dei voti della stampa della critica per l'appunto ma anche una media del pubblico per esempio lo stesso dell'Astovas l'hanno massacrato aveva tipo la media di 3 non lo so 4 una roba così del pubblico e invece la stampa aveva una media molto alta ed è un modo che il pubblico decide di punire lo studio in questo modo una forma di protesta bianca ma non tanto bianca no non è tanto bianca intanto Diego Ranca ci chiede di quale videogioco che avete realizzato sei maggiormente orgoglioso? allora mi verrebbe da dire sempre l'ultimo però ecco credo che la cosa che ha fatto più crescere l'azienda in questo nuovo mondo diciamo più commerciale il nostro primo prodotto di grande massa sia stato proprio PanzerCore nel senso che noi abbiamo ripreso e poi da allora abbiamo fatto ancora tanto di più in questa direzione riprendiamo un po' dei classici del passato esiste questo classico work game del passato che si chiama Panzer General che vendeva ai tempi migliori di copie stiamo parlando degli anni 90 ed è molto figo perché di base noi qualche anno fa abbiamo detto vabbè perché prendiamo lo stesso concept e cerchiamo di portarlo nel mondo moderno e ci ha fatto fare un grandissimo salto di qualità questo cioè è proprio un'idea che abbiamo poi riportato su altri prodotti e funziona molto bene perché il nostro pubblico è 30-35 quindi un maschio ha molto sì è molto grande cioè fai conto che i nostri war games quelli di Matrix qui mi riferivo all'inizio sono giocati da gente che ha 45-50-60 anni sono sono questi tipo di giocatori a cui ci rivolgiamo e e quindi ricordarli a cosa giocavano quando avevano 20 anni 25 anni è un sistema per farli tornare a giocare e funziona molto molto bene è una cosa che ci piace molto e invece i giovani come li attirate se vi interessa ma guarda i giovani arrivano arrivano tanto con le licenze arrivano tanto con con la distribuzione su piattaforme particolarmente dove ci sono i giovani quindi funzionano quando facciamo uscire un gioco su console arrivano arrivano lì arrivano anche da tanto da come dire da sistemi di gioco cioè se tu hai giocato una cosa che ti piace non so Total War Total War è una roba che funziona a 360 gradi non è propriamente un gioco semplice stesso vale per Civilization sono giochi che sono iper profondi iper complessi esattamente come i nostri ma che hanno milioni di giocatori ecco provare a ricordare a questi giocatori che esiste anche altro e quindi provare a usare lo stesso linguaggio di questi prodotti per trascinarceli dentro è un sistema che funziona abbastanza bene quindi replicare dei meccanismi che loro hanno già ritrovato quindi quando arrivano a giocare i tuoi non sono completamente spaesati ma sanno più o meno cosa devono già fare certo senti mettiti le cuffie che abbiamo una domanda complessa mettiti le cuffie fai la so sei pronto? vai su quale logica basate Roberto comunque su quale logica basate uno sviluppo cognitivo delle capacità logiche di problem solving dei giocatori non tutti i giochi sono facilmente comprensibili dai giocatori grazie o se volete metterle in un altro modo non tutti arrivano a finire i giochi con la logica a loro disposizione te la rileggo sì aspetta ci sono almeno dieci parole che non so non conosco quindi semplificaci la domanda parto dalla fine non tutti arrivano a finire i giochi con la logica a loro disposizione allora qual è la logica la logica è la logica cognitivo eh ragazzi però sviluppo cognitivo per me è tipo è livello 9 non so neanche allora Roberto facciamo una cosa semplificaci la domanda anche perché sono le 21 e 23 non puoi mettere così tanto alla prova la nostra comprensione del testo a quest'ora però però su una cosa ragione non tutti i giocatori vanno a finire i nostri giochi questo è tu pensi che lo spirito cognitivo della gente non è tutto uguale infatti io e te in questo momento siamo non ce la posso fare scusa Roberto perdonami ma è tardissimo ma Roberto sarà così bravo a semplificarci la sua domanda quello è il primo risposto però sì sì adesso la rifamo intanto nel frattempo senti io so che lavorate tanto con i governi giusto? allora guarda sì no questa è una cosa anche quasi divertente nel senso che i nostri giochi quelli proprio per impallinati che dicevo prima i war games quelli 2D inguardabili pesanti difficili eccetera ogni tanto una fetta di pubblico di questi giochi è gente che faceva il militare prima quindi peschiamo del nostro pubblico tra ufficiali generali in pensione eccetera eccetera tantissimo tantissimo tu figurati che l'altro giorno abbiamo fatto uno stream su Twitch tipo una nostra squadra contro una squadra del Pentagono su un gioco di distruzione termonucleare globale cioè proprio una cosa questo qua è il tipo di roba che facciamo e quindi qualche anno fa ci chiama un tizio del Pentagono e ci dice ascolta ma mi piacerebbe usare uno dei vostri giochi in questo caso si chiama Command per fare training interno e analisi interne quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato tipo provare a riattaccargli il telefono perché pensavamo ci stesse scherzando però in realtà era poi tutto vero e ne è nata veramente una collaborazione iper iper stretta con loro ma poi abbiamo ampliato adesso lavoriamo con praticamente tutti i ministeri della difesa del mondo occidentale un sacco di aziende private che lavorano nel settore militare della difesa per fare software di analisi e di training ovviamente sulla parte operazionale strategica non su tipo simulator di volo piuttosto che fps e cose del genere però è una roba che è nata quasi per caso e che è diventata importantissima per l'azienda infatti qualcuno diceva scusate ne approfitto ho letto in una sua intervista sul sito di Repubblica su Command e il rapporto con il Pentagono ce ne può parlare infatti abbiamo anticipato questa domanda fammi un esempio di come può essere concretamente utilizzato un vostro gioco per fare della strategia a livello della vita vera insomma sì 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 allora ti faccio un esempio che non ha niente a che fare con la guerra così così sdramatizzo un po' noi siamo fornitore principale del Pentagono su una cosa che si chiama Air Mobility Program che è praticamente lo studio del consumo di carburante degli aerei per sfruttare meglio il consumo di carburante per quando si spostano da una base all'altra piuttosto che l'usura dei motori degli aerei eccetera eccetera il nostro software viene utilizzato per tracciare questo tipo di movimento e capire nel lungo termine quindi abbiamo un database enorme di velivoli eccetera eccetera e viene usato da loro per tracciare questo tipo di dato l'analisi di quanto carburante consumato come si è usurato il motore eccetera eccetera per lunghi periodi e questo gli permette di valutare quando devono rimpiazzare gli aerei i motori eccetera eccetera e abbiamo iniziato questo programma due anni fa e siamo nell'anno siamo nell'anno tre adesso stiamo entrando nell'anno tre ed è iper interessante cioè non ha niente a che fare col gioco quindi con la parte ludica però usare un gioco per fare queste robe bisogna bisogna pensarci bisogna arrivarci ed è molto molto figo quindi voi non non rivisitate il vostro gioco e glielo date chiave in mano corretto? cioè è sempre la stessa versione che viene utilizzata o c'è della modifica dentro? Spessissimo c'è c'è della modifica praticamente questo sistema viene utilizzato un po' da governo in tutto il mondo si chiama COTS commercial of the shelf quindi l'utilizzo di software commerciale per scopi professionali e ovviamente quello per scopi professionali ha delle leggere modifiche ti faccio l'esempio di sparatutto il prodotto FPS arma se ce l'hai presente FPS è famosissimo esiste una versione professionale che si chiama VBS virtual battle simulator che è la stessa cosa per gli esperti professionisti del settore della difesa viene sviluppato da Bohemia Interactive ma con uno studio separato e le due cose si muovono in parallelo quindi la parte commerciale e la parte professionale continuano a parlarsi e si scambiano feature e quant'altro che figata è un po' come nel mondo delle simulazioni delle corse se no che hai una per chi fa Formula 1 vengono approfonditi ancora di più però la base diciamo che è quella la stessa poi dei vari videogiochi è identico e specialmente per l'analisi dei dati perché poi comunque sai per analizzare i dati di una macchina vera e propria devi spendere in benzina in un legge della pista e pilota eccetera eccetera per analizzare i dati su un simulatore ci metti un decimo delle risorse quindi non è banale che figata intanto Walter chiede qual è la situazione attuale in questo preciso momento storico sanitario del mondo del gaming registrati incrementi rilevanti o sostanzialmente la situazione è analoga? no beh allora sicuramente il periodo di diciamo lockdown quello stretto ha fatto sì che la gente giocasse di più quindi tutte le aziende del gaming hanno avuto un riscontro positivo a livello di fatturati di di tutta una serie di elementi diciamo positivi dal punto di vista economico e finanziario il caveat è in realtà che un sacco di giochi di sviluppo sono slittati perché gli studi di sviluppo grossi specialmente quelli importanti lavorare da casa eccetera fanno fatica a strutturarsi al volo per per fronteggiare questa cosa e quindi quello che si è recuperato adesso probabilmente nei prossimi mesi non dico che si perderà ma si farà molta più fatica a ringranare su alcuni progetti specialmente quelli grossi soffriranno tanto e come si lavora da casa voi state lavorando da casa cioè gli sviluppatori lavorano da casa gli sviluppatori praticamente al 99% si lavorano da casa si lavora in cloud con allungamento di tantissimo dei tempi per quanto riguarda specialmente i testing specialmente ti faccio un esempio banale tutte le aziende che fanno QA testing per le console usano delle console forse non è per sviluppatore certo quindi per delle versioni beta delle console che non sono a casa delle persone perché non posso mandare a casa di 150 dipendenti delle PS5 test perché fanno la rotazione cioè se sono lì la console fanno i turni per immagino anche se ne avessero 50 è difficile che Sony ti permetta di portarti a casa la sua console beta o Microsoft esattamente quindi questi studi che fanno QA testing stanno rallentando ovviamente lo stesso vale per le localizzazioni cioè lo scambio delle informazioni è più lento non c'è dubbio ma anche lo sviluppo di per sé perché comunque è un lavoro di squadra è molto di squadra tutti insieme io parlavo sempre con Naughty Dog per esempio loro mi raccontavano perché ho conosciuto questa esperienza mi sono fatta raccontare questa mi dicevano che siamo in un open space gigante e non so a me viene un'idea mi alzo vado alla scrivania di quello e dico oh ma senti è qua posso dimettere una finestra perché non mettiamo una porta così quell'altro entra allora aspetta che vado a chiedere a quell'altro se si può fare è tutto un flusso però devi essere di persona e lì a discuterne tutti insieme così immagino diventi tutto più è molto più complicato figurati che ci sono degli sviluppatori che fanno della disposizione delle scrivanie all'interno degli uffici una feature importante di come è strutturato il lavoro in team per cui alcuni sviluppatori si erano inventati anche le scrivanie adesso riderai perché ne abbiamo in Italia di questo tipo di cosa ma le scrivanie a rotelle perché? perché io devo spostare dieci persone che lavorano su questo progetto tre grafici quattro programmatori lavorate in team su questo prototipo insieme poi due mesi dopo risposto in un'altra parte quindi si erano inventati anche questi sistemi qua dai banchi all'hotelle mi viene quasi da ridere e adesso lavorano tutti da casa quindi non è banale e scarica la build da 5 giga e poi lavoraci sopra e riapploada non è non è semplice a Milano puoi avere la fibra da un gigabit invece fuori magari è un po' più difficile esatto esatto intanto Tex Milano dice avete collaborato anche con il ministero della difesa britannica in che modo? con sì loro hanno un dipartimento si chiama DSTL Defense Science Technology Laboratory ed è un dipartimento della difesa che si occupa di ricerca e sviluppo e con loro stiamo sviluppando svariati software tattici per la simulazione noi in realtà la cosa diciamo particolare è che lavoriamo con ufficiali di altissimo rango quindi siccome la carriera militare è alla fine si sblocca per età le persone con cui parliamo adesso sono ufficiali magari che hanno 55 60 anni no? e quindi entrare con un videogioco a volte è veramente complicato e lo vediamo con gli inglesi per esempio oggi abbiamo fatto una presentazione con due signori 65 anni che dovevano presentare un videogioco e mi faceva mi faceva sorridere cioè era veramente quasi surreale una cosa del genere questi signori con le mostrine tutti infiocchettati che facevano la presentazione del videogioco era quasi quasi surreale se vuoi beh è carina questa cosa anche perché sono generazioni a confronto e metti queste persone molto spesso viene magari anche accolto anche in maniera diffidente inizialmente tantissimo sì tantissimo ma infatti noi dobbiamo evitar di usare la parola videogioco e come lo presenti come ciao abbiamo questa cosa è una simulazione è un software un simulation software una roba così il posizionamento non è facile però è come quando mi ricordo quando facevamo i giochi noi facciamo tanti giochi storici e molto spesso i nostri giochi per esempio in Stati Uniti in Canada e così vengono utilizzati per insegnare la storia dell'antica Roma piuttosto che del medioevo eccetera come funzionavano alcuni meccanismi eccetera e anche lì c'è il problema cioè cosa fai usi un gioco e poi quando devi dire che un gioco ha una valenza educativa allora non è più un gioco è una palla fotonica quindi non è facile le terminologie sono difficili da usare nel modo giusto in questo caso sono importanti e difficili allo stesso tempo perché potresti rovinare completamente che poi la sostanza è sempre la stessa è quella la cosa divertente è pur sempre un videogioco educativo però devi saperlo infiocchettare come dicevi tu prima in maniera un po' particolare per riuscire ad andare al goal esatto esatto e gamification gamification è la la parola d'ordine la buzzword ultimamente che devi rendere tutto giocoso gamification sì sì giusto mi piace anch'io ogni tanto la uso e ancora lascio sconcertate molte persone che mi dicono ma che stai dicendo senti invece Diego Ranca chiede quale gioco ti sarebbe piaciuto aver prodotto ma che non avete ancora fatto ah che non esistente che abbiamo che non abbiamo ancora fatto ma nel gioco ti sarebbe piaciuto aver prodotto ah no no lo sappiamo se non è mai stato fatto o qualcuno vabbè scegli tua tua scelta sei tu l'ospite guarda io credo che se avessi se potessi mi piacerebbe tantissimo lavorare con qualcosa di Star Wars è un po' la mia diciamo una delle cose che mi manca in questi vent'anni ho lavorato un po' a tutto ma Star Wars mi manca e devo dire che è una property su cui insomma mi piacerebbe tantissimo lavorare in realtà ci confermo che era un gioco esistente sul quale avresti voluto aver giocato ah un gioco esistente un gioco esistente ma ma forse Knights of the Old Republic è un po' il mio insomma il gioco il gioco che un po' rappresenta no sia il tipo di gioco che mi piace e insieme no il mondo che rappresenta è un po' quello lì potrebbe essere questo intanto Daniele chiede qual è il tuo parere sulla fase crunch dello sviluppo dei videogiochi è sempre da evitare o un male a volte necessario spieghiamo prima che cos'è il crunch time e poi la tua opinione in merito allora sono i abdominali quelli lì così no la cosa di iperattualità è fighissimo il crunch è il crunch è una cosa che è vecchia come il nostro settore cioè devi finire un gioco perché devi farlo uscire per Natale e quindi si lavora tutti 24 ore al giorno fino alla morte di alcune persone e fino al burnout totale divorzi di tutto di tutto fortunatamente la cultura in questo senso è cambiata tanto perché io mi ricordo non faccio nomi ma degli studi di sviluppo con dei gigaurologi con un countdown alla beta no mancano x giorni cioè una roba veramente da la tortura cinese ah proprio che countdown maronna ma quella è una roba proprio un'ansia tremenda eh adesso si tende a posticipare si tende a avere una cultura un pochino meno così eh stringente in questo senso eh però ecco per esempio ho venuto fuori settimana scorsa che eh CD Projekt ho dovuto fare crunch per il finire chiudere cyberpunk eh dopo averlo fatto slittare 78 mila volte mila volte sì esatto e dopo aver annunciato e fai conto che c'è gente che l'ha preordinato quasi due anni fa ormai oh ma se non sarà se non sarà bello a parte l'italiano lascia perdere se non sarà bello cyberpunk la gente si incazza per davvero wow perché lì posticipi infatti lì immagino essere in uno studio cioè nei panni di uno studio di questo genere che inquietudine è certo che però il crunch time la mia domanda è vuol dire che non hai fatto una sega durante tutto l'anno e allora è come tipo a scuola oh mio dio domani interroga lo dobbiamo fare tutto subito o perché cioè perché si arriva a farlo il crunch time perché non si calcolano bene i tempi o no perché perché ci sono varie ragioni il primo la prima ragione è che la pianificazione nel mondo dello sviluppo è quasi impossibile nel senso che tu la puoi fare per carità benissimo però la puoi fare su cose che conosci banalmente FIFA si sa che esce ogni anno quindi tu decidi di mettere dei team in parallelo che lavorano alla feature di tra due anni no quindi come fa Call of Duty che hanno i due studi diversi che un anno lo fa uno lo fa l'altro esatto esattamente quando hai una roba così vasta diversa nuova come cyberpunk è oggettivamente impossibile e poi c'è questa cosa che si chiama feature creep per cui tu continui ad aggiungere ma mano che va avanti continui ad aggiungere potremmo fare questo allora facciamo anche questo allora facciamo questo ah ma il pubblico ce lo chiederà e quindi mi inseriamo e così via si chiama feature creep questa cosa feature creep esatto e piano piano poi ti rendi conto che alla fine sei arrivato troppo sotto con una serie di cose che non puoi più testare poi c'è il problema della multiplattaforma e quindi devi testare su quattro piattaforme diverse contemporaneamente poi ultimamente i giochi si tende a farli uscire anche per il citofono di casa quindi devi farli veramente girare su qualsiasi cosa questo me la rivendo scusami cheat Marco te la rubo perché è bellissima tua tua ma quindi senti questa non la sap non ero consapevole di questa cosa se io ho un gioco multipiatta come si dice il gioco applicazioni completamente diverse perché esiste una cosa adesso si chiamavano CTR quindi CRT cioè quelle cose specifiche di ogni console per esempio su playstation se premo X vado avanti tutte queste cose specifiche della console che avvengono nella versione PS piuttosto che Xbox piuttosto che Switch e tutte queste cose devono essere valutate e testate anche dal manufacturer quindi anche Sony anche Microsoft anche Nintendo devono testare il gioco verificare che funzioni eccetera eccetera poi te lo approvano e tu sei poi puoi andare a produrlo e così via quindi hai dei tempi dentro che sono biblici e poi in tutto questo hai le patch del day one no? quindi perché stanno già lavorando a quello che uscirà tra due mesi dopo che il plot è uscito e i fix e quello che non funziona perché poi quando fai giocare il tuo gioco da milioni di persone ti faccio l'esempio del PC ogni PC è una configurazione diversa e quindi dovrei andare a dire ok ah ma io ho la scheda grafica che si interfaccia con quel software e quindi non mi va e quindi devi fare anche le patch per quelli lì non è banale è un lavoro titanico porca miseria prima di farti questa domanda qua io avevo un'altra domanda che però mi sono già dimenticata vabbè niente ce l'avevo sulla punta del cervello mi sfuggi niente mi ritornerà dopo adesso intanto ti faccio questo di Daniele e poi mi torna Daniele dice ma un videogioco in stile Slytherin del Signore degli Anel Qualcuno in chat sarebbe molto felice io ok Signore degli Aneli interessante tutto quello che è fantasy sci-fi con diciamo queste connotazioni non è semplice tante fazioni no delle specifiche che ci sono quindi devi avere delle fazioni devi avere dei personaggi delle caratteristiche diversi per ogni fazione eccetera sono tutte cose molto molto fighe io personalmente sono un grande fan del Signore degli Anelli però credo che Tronic Arts abbia fatto già un lavoro fantastico sul suo gioco di strategia sul RTS farei fatica a pensare a qualcosa di meglio però sì sarebbe tantissimo ovviamente certo sarebbe figo mi è arrivata la mia domanda ce l'ho adesso mi è tornata è andata a farsi un giro è tornata adesso hai parlato di patch del day one mi immagino un videogioco che usciva 15 anni fa dove le console non erano collegate alla rete quindi tu il gioco arrivava come era era oggi io posso buttare fuori un gioco non ti dico tutto buggato però un gioco che è al 90% pronto ma ci sono ancora delle robine che non vanno tanto che me frega posso correggerle man mano che vado avanti come è cambiata questa cosa? è stata è cambiato tantissimo la gente ne abusa tantissimo vengono fuori dei giochi che non dovrebbero uscire questa è la verità però in realtà 15 anni fa esisteva il modo di patchare cioè ti compravi giochi per il mio computer il mitico giochi per il mio computer e c'era il cd con dentro le patch dei giochi però se avevi la console la playstation 1 se avevi la console ovviamente la console però lì era diverso nel senso che il processo di approvazione di Sony per un prodotto dieci anni fa era che se non era perfetto non potevi neanche pensare di stamparlo perché c'era proprio un dipartimento di QA di Sony che ti faceva un mazzatarallo tanto è vero che a un certo punto Microsoft ha iniziato a far pagare il proprio QA perché arrivavano delle robe credo ingiocabili e quindi e la gente usava il QA di Microsoft per fare il suo QA capito quindi delle cose simpatiche di questo genere adesso il mondo è diverso la gente fa i sviluppatori fanno degli early access inguardabili delle delle più che poco più delle demo a cui poi vengono aggiunte delle cose il mondo early access ha un po' cambiato tutto per cui esistono gli esempi buoni e gli esempi veramente pessimi fai conto che su Steam escono centinaia di giochi alla settimana e quindi gioco forza dentro lì ci sta veramente di tutto qualcuno in chat più di uno dice gli utenti sono diventati beta tester e Walter dice siamo tutti beta tester questa è la verità è vero ma anche i nostri utenti non è una cosa negativa cioè io la vedo come parliamone poi rispondiamo alla domanda di Gordon di Gondor 1970 che riguarda te stesso medesimo però parliamo di questa cosa è una cosa buona brutta cattiva simpatica perché no? allora in realtà credo che per come la vivo io e la viviamo noi come azienda usare so che la parola usare è brutta però è sfruttare ancora peggio l'opinione dei giocatori incassinando la tua situazione aspetta le parole aspetta che ho da sotterrarmi che sono le dieci minun quarto l'opinione dei giocatori per dare pareri costruttivi su cosa cambiare modificare sistemare migliorare eccetera io sono totalmente a favore e credo che anzi sia necessario perché quando lavori su una nicchia di mercato come la nostra il prodotto lo fanno i giocatori cioè io non potrei esistere senza chi mi dice faccio un esempio veramente stupido però ti dà un'idea l'altro giorno faccio uscire un trailer di un gioco e c'è un tizio su twitter che mi dice ma perché la divisa del tipo è una divisa polacca della seconda guerra mondiale e non è quella capito roba che cioè non lo sviluppatore che è esperto non i ricercatori che ci lavorano e non noi del marketing siamo resi conto di questa cosa quindi il contributo ci sta no è un po' eccessivo per il caso però ci sta ed è positivo cioè io lo ritengo una cosa iper positiva quando invece sfocia nel no ragazzi open beta vedete se funziona e poi vediamo cosa succede no perché comunque quelli lì sono servizi che si pagano quindi non puoi decidere no di usare il tuo utente per qualcosa che altrimenti dovresti pagare ci deve essere un minimo di dignità da quel punto di vista non puoi dare in pasto una roba fatta a caso dici tanto poi gliela correggo tra un mese e questo non è solo io sto pagando per avere il gioco non è che sì esatto esatto e questo non è solo lo studio grosso piccolo cioè sto parlando di una cosa che è abbastanza trasversale capita molto spesso anche gli studi grossi che fanno questo tipo di esercizio perché? perché è una base di utenti ampia e no uso il messaggio di vogliamo coinvolgere la community eccetera ma poi fai uscire delle robe che sono inguardabili e giustamente poi ti puniscono per queste robe gli early access come hanno cambiato il modo del videogioco e spieghiamo anche magari per quelli che non lo conoscono che cos'è l'early access l'early access praticamente è un modo di far uscire un prodotto che non è finito che ha una sua dignità quindi esiste quindi può essere è giocabile viene usato questo termine di vertical slice quindi tu hai praticamente immagini un gioco di guida con solo dieci macchine tre piste e poi ci aggiungi il contenuto per un paio di giorni immagino eccetera cosa? per un paio di giorni per un periodo definito di tempo no può essere anche che esce e poi piano piano gli sviluppatori aggiungono roba ed è un modo per finanziare progetti indipendenti quindi ok faccio uscire questa roba che funziona che è solida ti chiedo 19 euro ti chiedo di credere nel mio progetto perché io con i tuoi soldi ne farò più modalità di gioco metterò multiplayer metterò più macchine più piste e così via e questo vale per tutti i generi e ha dato un sacco di possibilità a sviluppatori indipendenti che altrimenti non avrebbero mai fatto uscire dei capolavori Kerbal Space Program Besiege ce ne sono tanti di giochi che hanno fatto Dwarf Fortress ce ne sono veramente tanti di giochi in early access che hanno centinaia di migliaia se non milioni di giocatori che hanno fatto la fortuna di questi sviluppatori e viva Dio esistono un po' come il Kickstarter no? cioè ti vendo una cosa ti faccio pagare prima che esca e poi con quei soldi faccio il gioco quindi io a me piace l'early access non quando viene sfruttato da Giga Corporation che hanno i soldi comunque ma quindi perché stai chiedendo i soldi in anticipo ecco intanto Gondor 1970 dice una domanda come un italiano è diventato marketing manager di un'azienda inglese per caso per caso per caso è successo in modo abbastanza casuale nel senso che io lavoravo per per un'azienda italiana che per Milestone che fa giochi di guida giochi di moto ai tempi avevamo lanciato la label di publishing e quindi gestivo questa cosa qua in cui praticamente pubblicavamo i giochi di Milestone e poi facciamo anche altri prodotti di terzi uno di questi terzi era la slithering e poi per una serie di diciamo vicende abbastanza simpatiche mi sono ritrovato a essere socio dell'azienda e da lì ho ricominciato tutto era un'azienda che ai tempi aveva quattro dipendenti quindi ti ripeterò è stato un roller coaster interessante fino ad ora beh interessante dai almeno ti sei costruito alla fine qualcosa di di tuo no? sì 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 no assolutamente e devo dire la verità per come è andata è stato sono quelle scelte no? che nella vita fai da punto di non ritorno e poi ci ripensi dice ho fatto bene ho fatto bene ho fatto bene ho fatto bene anche perché sei lì da vent'anni o hai fatto bene o c'è qualcosa oppure ho tutti i problemi esatto intanto Roberto ora ci riprova ci riprova mettendo la prova di nuovo i nostri i nostri cerebri alle 21.51 dice una curiosità come fate a trovare i bug su cosa vi basate nella loro scoperta questo è facile questo è facile non c'è nessun difficoltà è facile se però anche no tra l'altro è tutto scritto con parole che conosco quindi grazie Roberto ti ringrazio alla tarda ora ho capito la domanda no in realtà esistono vari tipi di bug i bug di compatibilità quindi di base no questo gioco è compatibile con tutte le schede video eccetera eccetera sono fatti sono trovati da aziende esterne che si occupano proprio di fare quello i bug invece di gioco sono trovati in fase di beta testing e il beta testing è una parte dello sviluppo che può durare poco o tantissimo anche anni e in questo caso sono i giocatori che giocano la beta che ti dicono guarda che c'è il bug questa roba non funziona rifalla piuttosto che cambia quanto conta la community nello sviluppo nel miglioramento di un gioco soprattutto del vostro genere perché capisco una community da milioni di persone è difficile ascoltarli tutti però voi avete una community abbastanza circoscritta sì cospicua ma comunque circoscritta quanto è importante ascoltarli anche se sono un po' rompini è importantissimo sì è importantissimo però sono rompinissimi sono rompinissimi sono rompissimi no in realtà guarda sono rompini però hanno hanno esagero hanno quasi sempre ragione mentre le community di giochi più grossi tendono a essere un po' tossiche perché si creano queste ondate di critiche su cose che sono veramente assurde poco concrete quando esiste una critica sul nostro prodotto tipicamente la community o ha ragione o ci fa riflettere comunque quindi è importantissimo tant'è vero che noi senza la community quindi senza quella validazione in fase di beta che ci porta la community noi raramente andiamo a pubblicare un gioco è veramente raro che diciamo ok proviamoci lo stesso anche se non sembra che le cose non vadano benissimo e poi abbiamo gli specializzati sono fantastici abbiamo quelli specializzati nel medioevo abbiamo quelli specializzati nella fantascienza abbiamo quelli sono veramente dei gruppi di interesse pazzeschi pazzeschi e sono fighi si eh hai gli occhi che brillano si perché in realtà ogni giorno ci confrontiamo con queste persone che è un po' come se ci aiutassero a lavorare meglio no mentre mentre mi rendo conto che quando tu sviluppi no cyberpunk domani esce cyberpunk e tu metti il tuo gioco nelle mani di milioni di persone non so quanto dormano la notte no quella notte lì in cui il giorno prima non deve essere facile per niente invece noi abbiamo un po' questo cuscino importante della community che ci dà la sicurezza di fare il lavoro nel modo giusto e quando non lo facciamo nel modo giusto facciamo in tempo a correggere è una cosa che ci siamo costruiti in vent'anni che non è banale ma che adesso ci permette di avere una bella sicurezza su quello che facciamo sul lavoro che facciamo scusami stavo leggendo un commento di Daniele che dice in Starship Troopers ce ne saranno tantissimi di bug capito? è una cosa che io ho bandito in ufficio cioè il primo che fa questa battuta in ufficio deve essere bandito ma il pubblico ovviamente Daniele sei bandito per sempre no no vai Daniele vai tranquillo intanto arrivava qualche altra domanda Bepp West dice quanto i giochi per mobile stanno influenzando i giochi per console grazie stanno influenzando tanto perché il modello di business il modello in cui di base si fanno i soldi viene ormai viene da lì noi abbiamo ancora la fortuna di poter lavorare 100% premium quindi paghi il gioco lo scarichi e poi lo giochi però la modalità free to play che è nata per mobile la modalità per abbonamento che è nata su mobile sta permeando in tutti i settori e questo è cambia le carte in tavola completamente il modo di sviluppare il modo di acquisire gli utenti il modo di comunicare tutto è proprio un modo diverso di lavorare completamente diverso e il mondo di mobile in questo è pioniere mi rendo conto che è come se fossero due industrie diverse ma è sempre fatto specie che finché c'erano le fiere i3 che è la fiera principale del settore videogiochi a Los Angeles gli operatori di mobile non c'erano non ci sono mai stati quindi quanti ce li sei fatti i3 17 credo una cosa così io tipo 5 6 tipo gli ultimi però 17 sono tanti ne hai vista di acqua a passare sotto i bordi però se tu ci pensi è interessante vedere comunque sono due settori che sono cresciuti sono sviluppati quasi in modo indipendente ma che poi alla fine si parlano talmente tanto che è quasi assurdo che non siano uniti Epic è un esempio interessante in questo caso hanno soldi appalate lì esatto senti tanto sempre Gondor 1970 dice ma lavorate in Italia c'è una sede nel nostro paese assumete si sta autoproponendo autocandidando sì l'ufficio marketing a Milano in questo momento l'ufficio marketing è un po' a Verona un po' a Treviso un po' a Trento un po' a Milano ognuno a casa sua però sì l'ufficio marketing a Milano e la cosa divertente di Slithering è che è un po' si è evoluta in questo modo come ti dicevo adesso siamo più di 100 abbiamo gente che è sparsa in tutto il mondo abbiamo sviluppatori Nuova Zelanda abbiamo argentini belgi come se fossero esotici di ogni nazione ed è molto bello questo è molto bello è difficile parlarsi a volte ma è molto molto bello bene io direi che quando ci si diverte il tempo vola sono volati 58 minuti lo so che tu non te ne sei neanche corto però qui abbiamo parlato di un sacco di cose e direi che il nostro tempo a disposizione è praticamente scaduto io ringrazio te per il tuo tempo perché è stato super interessante ci hai raccontato delle cose che anch'io non sapevo ma sicuramente anche il nostro pubblico ha trovato nuove coinvolgenti io ti auguro di togliere la giacca e la cravatta e la camicia al più presto così almeno ti rilassi un attimo ma io credo di che andrò a dormire così adesso ah così vai sono pronto per domani grazie di tutto e complimenti al vostro progetto che è incredibile io sono un grande fan di Tech Princess da tempi non sospetti e complimenti a tutti a quello che state facendo a tutto al mondo auto al mondo tecnologia a tutto quello che fate per la divulgazione perché è veramente figo bravi grazie grazie ancora Marco grazie per il tuo tempo e grazie a voi che ci avete seguito fino ad ora e ci vediamo in una prossima live tanti baci a tutti ciao 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 ciao